Musica Si è tenuto a Verona il sesto forum delle comunità, laudato sì. Raddoppiare l'impegno era il titolo dell'evento. Sono intervenuti il Vescovo Pompili e il fondatore di Slow Food Carlo Petrini. Essere cardinali non è una questione mondana, vuol dire mettere al centro Dio. A sottolinearlo, ieri in cattedrale a Verona il nuovo cardinale Monsignor Claudio Guggerotti, che ha preseduto il solenne pontificale di ringraziamento per la nomina accolto da tutta la diocesi. Domani giornata di preghiere e digiuno per la pace in terra santa. Tante le iniziative anche nella diocesi di Verona. Domani sera alle 20.30 la diretta su Telepace. Buonasera Ben, ritrovati dal Tg di Telepace. Si è tenuto a Verona il sesto forum delle comunità, laudato sì, nel Salone dei Vescovi in Vescovado. Un pomeriggio di riflessioni, sabato aperto al pubblico, a partire dall'esortazione apostolica laudate deum. Salone gremito con oltre 250 partecipanti. Ce ne parla Lucio Fasoli. Vediamo. È iniziato con la performance artistica proposta dal progetto didattico laudato sì di Mantova il pomeriggio del sesto forum delle comunità laudato sì. Ha portato a riflettere sulla grande responsabilità di ciascuno rispetto a quella risorsa fondamentale che è l'acqua. A seguire poi il saluto di Papa Francesco in un video registrato dal Vescovo Domenico in cui il Pontefice ha condiviso la preoccupazione per l'emergenza climatica e ha auspicato ad un cambiamento che parta con scelte dal basso. Si è parlato di conversione ecologica citando il titolo dell'incontro raddoppiando l'impegno a partire dalla consapevolezza. Mi pare che ci sia stata una partecipazione, si può ben vedere, superiore alle attese ma questo dice che il problema del cambiamento climatico e dell'ecologia integrale è avvertito dalla gente anche se spesso la politica è piuttosto disattenta e questo dice anche della necessità di implementare questa crescita di consapevolezza di una questione che è diventata cruciale. Il pomeriggio è stato caratterizzato da quattro contributi video. Sono intervenuti l'economista e teologo Giraud, il fisico Carlo Rovelli, il vicepresidente del Club di Roma Carlos Alvarez Pereira e il climatologo Luca Mercalli. In presenza il fondatore di Slow Food e promotore insieme al Vescovo delle comunità Laudato Si ha sottolineato la necessità di implementare il lavoro di attenzione all'utilizzo delle risorse ambientali. Prendere coscienza della finitezza delle risorse esige che noi tutti adottiamo comportamenti, stili di vita, metodi di produrre, modi di viaggiare, di consumare che sono totalmente diversi da quelli sui quali noi siamo cresciuti e questo passaggio esige un lavoro molto molto approfondito. La presa di coscienza di questo stato di cose è stata ulteriormente messa in evidenza dall'ultima esortazione apostolica di Papa Francesco, la Laudato Deum, dove il problema della contingenza storica viene richiamato con grande drammaticità, ragione per cui tutti coloro che hanno iniziato questo processo di conversione ecologica adesso devono diventare attivisti per fermare la deriva sulla quale noi siamo incamminati. Le comunità Laudato Si che sono cresciute in questi anni in circa 75 località dal nord al sud d'Italia dicono di un impegno che può prendere piede in mezzo alle persone di buona volontà che capiscono che il cambiamento se non parte dall'alto deve partire dal basso. In Italia sono oltre 3,1 milioni le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, anche grazie alla solidarietà della popolazione. È quanto stima la Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla FAO sulla base dei dati del Fondo per l'Aiuto Europeo agli indigenti. Essere cardinali non è una questione mondana. Vuol dire mettere al centro Dio a sottolinearlo ieri in Cattedrale a Verona al nuovo cardinale Monsignor Claudio Guggerotti che ha presieduto il solenne pontificale di ringraziamento per la nomina accolto da tutta la diocesi scaligera. Vediamo. È stato un momento di grande festa, la messa solenne di ringraziamento preseduta da sua eminenza Monsignor Claudio Guggerotti creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 30 settembre. Prima dell'inizio della messa il passaggio banco per banco per salutare fraternamente tutti i presenti. A concelebrare a suo fianco il Vescovo di Verona Domenico Pompili, il Vescovo Emerito Zenti, Monsignor Passigato, genunzio apostolico. Nell'Omelia il cardinale Guggerotti ha detto che da poco tempo è rientrato da un viaggio in Siria, terra stretta, da una povertà immensa. Ha poi ricordato che tutti siamo chiamati a una festa, che è l'amore impensabile che Dio ha per ciascuno di noi. Ma la società è distratta in un mondo che sembra impazzito in una furia autodistruttiva. Al centro di tutto questo c'è sempre e solo Dio, non una questione mondana, non una questione di precedenze, di onori e di gloria. Per me è molto bello oggi essere in questa chiesa che mi ha dato i Natali, la chiesa di Verona, mi ha dato il battesimo, mi ha cresciuto nella sua fede, mi ha fatto conoscere il carisma di Don Mazza e seguirlo per quanto ho potuto tutta la vita. Prefetto del di Castero per le chiese orientali, Monsignor Guggerotti è stato nominato dal Papa in altri nuovi di Casteri. Profondo conoscitore delle lingue e della cultura delle chiese orientali, il cardinale ha ricordato il carisma della pia società Don Nicola Mazza a cui appartiene. Al termine, saluto ai concelebranti e alle autorità, il ricordo dei genitori in cielo, il pensiero agli altri due cardinali veronesi dal Corso e Zenari, che non hanno potuto essere presenti alla celebrazione, quest'ultimo perché bloccato in Libano durante il suo rientro in Italia. L'Associazione Famiglia e Futuro conferma la sua volontà di sostenere la vita dal concepimento alla morte naturale, in particolare approvando e appoggiando due iniziative recenti. La prima si chiama Un cuore che batte, una proposta di legge di iniziativa popolare che introduce nell'articolo 14 della legge 194 il comma 1 bis che obbliga il medico a far vedere il nascituro nella visita che precede l'aborto alla donna intenzionata ad abortire. Chiunque può firmare entro il 7 novembre questa modifica presso il proprio comune. La seconda iniziativa è una proposta di legge regionale presentata da tre consiglieri regionali del Veneto con l'obiettivo di promuovere le cure palliative e l'assistenza sanitaria alle persone affette da malattia terminale o inguaribile perché la soluzione non sono la eutanasia o il suicidio assistito ma l'aiuto a non soffrire e a sopportare anche economicamente le famiglie che vivono situazioni tragiche di sofferenza. Il patriarca latino di Gerusalemme il cardinale Pizzaballa ha chiesto per domani alla comunità internazionale una giornata di preghiera e digiuno per la pace in particolare in riferimento alla gravissima situazione della Terra Santa. Telepace alle 20.30 sarà in diretta da Cerna per la preghiera con il direttore Don Luca Passarini e il fondatore Monsignor Guido Todeschini. Anche la Diocesi di Verona risponde con una serata di preghiera ecumenica intitolata Disarmaci Signore dai Padri Comboniani in Vicolo Pozzo 1 a Verona alle 20.45. Coinvolto anche il Consiglio delle Chiese Cristiane Pax Cristi Comboniani e il Servizio Attività Ecumeniche. Una serata di preghiera speciale sarà organizzata anche a San Bernardino. Vediamo. Il fiato del mondo è in sospeso per la gravissima situazione che da giorni si sta verificando in Terra Santa. La preghiera è il primo strumento che chiede il Santo Padre. Con lui il cardinale Pizzaballa, francescano. E la comunità francescana di Verona si appresta a vivere domani una serata speciale di preghiera e digiuno. Noi abbiamo previsto che durante i Vespri verrà esposto il Santissimo che poi rimarrà esposto anche dopo i Vespri per permettere l'adorazione silenziosa durante il tempo che di solito si usa per la cena per poter anche digiunare però non da soli ma in presenza del Signore e poi alle 21 ci sarà un momento animato che avrà come base lo schema della CEI ma sarà un po' arricchito da altri spunti. Il senso di questa giornata per ricordare e aiutare con la preghiera e con il digiuno è chi soffre in Terra Santa. Il senso è quello tradizionale, classico della Chiesa e da sempre c'è una partecipazione alle sofferenze di tutto il popolo cristiano ma anche di tutta l'umanità e quindi la preghiera per chi in qualche modo soffre ma pensando proprio al luogo dell'incarnazione di Cristo c'è anche questo aspetto comunque tradizionale del digiuno in cui anche la nostra carne in qualche modo partecipa alle sofferenze di quel popolo attraverso quella che è in fondo una piccola privazione. Oltre 55.000 persone in questi giorni hanno visitato Riese Pio X per la Peregrinatio Corporis diversi momenti di preghiera davanti alle spoglie di San Pio X ieri la conclusione con la Messa Solenne presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Vaticano Monsignor Parolin le spoglie poi sono partite per raggiungere Padova dove si fermerà domani e martedì vediamo Un'attesa lunga decenni si è conclusa le reliquie di San Pio X hanno visitato con una grande serie di eventi il suo paese di origine Riese Pio X paese in cui ha ricevuto il dono del battesimo e ha potuto alimentare la propria fede oltre 900 persone tra volontari addetti hanno accolto oltre 55.000 pellegrini che sono venuti a rendere omaggio alle sue spoglie ieri la Santa Messa Solenne presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin concelebrata dal Vescovo di Treviso Michele Tomasi che ha espresso la gioia di un evento spirituale di grande portata che ha mobilitato fedeli da ogni parte del Veneto e oltre riscoprendo la figura di questo grande Papa nei giorni trascorsi l'accoglienza di tanti, davvero tanti fratelli e sorelle tributata all'urna che contiene il corpo del Santo Papa Pio X è stata calorosa affettuosa, sentita tanti e tante sono venuti per portare un'invocazione, una supplica per chiedere conforto e aiuto nelle prove della vita in tanti davvero un popolo in cammino siamo venuti in pellegrinaggio pregando insieme perché Cristo sia tutto in tutti secondo la profonda aspirazione che fu di tutta la vita di Papa Sarto abbiamo pregato e continueremo a farlo per la pace così minacciata e violata nel mondo da tanta insensata violenza il Cardinale Parolin proprio ieri ha festeggiato il decimo anniversario del suo ruolo di segretario di Stato Vaticano ha ricordato anche la preghiera che gli stesso rivolge spesso in Vaticano nella Basilica di San Pietro dove sono conservate e venerate le spoglie di San Pio X e ha ricordato nell'Omelia qualche tratto della sua figura fu proprio questa in estrema sintesi la persona di Pio X un innamorato di Dio un innamorato della sua parola e del Vangelo di Gesù che voleva da tutti conosciuto attraverso il Catechismo un innamorato di Gesù nell'Eucarestia a cui tutti convocava un innamorato dei poveri per i quali si privava perfino del nutrimento quotidiano per sostenerli per allievarne le miserie per soccorrerle le necessità vitali ecco primato e conoscenza di Dio nella sua prima esortazione apostolica da Papa Pio X dichiarò che solo questa era la sua ansia più profonda per la quale fra le lacrime aveva accettato il peso del pontificato si è tenuta sabato mattina la giornata di formazione annuale delle scuole FISM di Verona riunite circa 300 persone tra coordinatrici presidenti dei comitati di gestione educatori parroci delle 173 scuole materne FISM di ispirazione cristiana che si occupano di 14.000 bambini all'evento è intervenuto anche il vescovo di Verona Monsignor Domenico Pompili insieme alla presidente della FISM e ad altri relatori è tutto grazie per essere stati con noi grazie a tutti